Ogni partita nel finale di stagione l'Asticella si alza sempre di più. Si alza sempre di più perché la posta in paglio è più importante e perché tutte le squadre hanno veramente dei grandi obiettivi. Chi da una parte e chi dall'altra hanno grandi obiettivi. È quello che ci aspetta noi per chiudere la settimana che abbiamo iniziato con Cremona e abbiamo portato avanti bene a Ostenda e vogliamo chiuderla nel miglior modo possibile sapendo che però rimane una partita molto difficile perché Brindisi sta facendo una stagione di alto livello culminata con il raggiungimento della finale della Coppa Italia che è un risultato di cui bisogna veramente fare con grandi complimenti a Cos Vitucci e a tutta la sua squadra perché hanno fatto due partite eccellenti per arrivare alla finale e come hanno fatto benissimo per arrivare fino a questo momento della stagione loro che come noi non erano tra quelli favoriti per arrivare a questo momento. Però hanno una squadra con grande atletismo, grande dinamicità attorno a un leader come Banks, a un altro leader come Chappell hanno trovato dei giocatori estremamente interessanti come Brown dalla 2, che è un giocatore molto dinamico un lungo atipico però proprio nella sua atipicità riesce ad essere una grande forza per lui perché devi fare molta attenzione come marcarlo una grande esperienza di Caffney che è un giocatore che magari non vedi tanto nei numeri ma poi dopo però nei momenti di sostanza fa il canestro che deve fare, fa giocare la squadra e poi devo dire che c'è stata questa grande esplosione di Moraschini e anche qua bisogna fare i complimenti alla società per averlo scelto e lui per come ha sfruttato questa opportunità io penso che potesse giocare bene magari si poteva aspettare ma così bene veramente io penso che sia stata una sorpresa io parlo a titolo personale per me è stata una sorpresa che giocasse a così alti livelli e quindi bisogna fargli bravo bravo a lui e bravo all'allenatore che lo mette nelle condizioni di giocare a questi livelli però poi alla fine torniamo sempre a Banks che qua a Varese si conosce bene il tipo di giocatore che è e a Ciappel che sono due giocatori che hanno leadership che hanno oltre ad essere grande esperienza ma anche grande tecnica e devono essere poi i nostri giocatori numero uno da mettere nel mirino ecco se vogliamo fare una partita e avere possibilità dovremmo ripetere le cose buone che abbiamo fatto Stenda che abbiamo fatto un primo tempo eccellente controllo del ritmo importante attenzione alle palle perse per non permettere agli altri di giocare tanti possessi in campo aperto e quindi facendo una parte positiva dell'attacco automaticamente si comincia a fare una parte positiva anche della difesa